Ha evocato uno degli immaginari più spaventosi per il nostro paese, colpire nelle chiese durante il Natale perché piene di fedeli cristiani, a partire dalla più grande, a Roma, a San Pietro. Il GIP del Tribunale di Bari ha convalidato il fermo di Mosin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil. Intercettato avrebbe detto, quello che uccide i cristiani, i nemici di Allah, è un nostro fratello. In un'altra intercettazione, dei primi di dicembre, dice a un interlocutore, tu sai com'è là, riferendosi a Roma, a Natale c'è il Papa e tanta gente, ci sono tante persone. Poi parla insistentemente del 27, forse la data per colpire, e si informa sulla distanza fra Bari e Roma. Anche dopo il fermo non avrebbe negato nulla, anzi avrebbe detto agli inquirenti, se Dio lo vuole bisogna ammazzare.